Le famiglie degli alunni che frequentavano l'ex Plesso San Michele, l'alunni che adesso frequentano Leonardo Sciascia, chiedono l'attivazione di un servizio di trasporto. A che punto siamo? Siamo a buon punto perché stiamo chiudendo una convenzione con la SCAT. L'amministrazione aveva in un deposito uno scuolabus che da anni giaceva inutilizzato. Abbiamo fatto fare tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria perché potesse ritornare a essere utilizzato e lo abbiamo affidato alla SCAT proprio perché potesse avviare questo servizio. Speriamo di avviare se non la prossima settimana, sicuramente speriamo prima delle festività natalizie e poi affidarlo alla quotidianità da gennaio in poi con la ripresa scolastica. Quindi stiamo chiudendo questa convenzione con la SCAT. Quindi possono stare tranquilli? Stiamo lavorando, possono stare tranquilli che siamo al lavoro anche per loro.